mister partita brutta però tre punti a casa e questo era la cosa più importante sì noi l'abbiamo preparata così sapevamo che il Puccetto è una squadra che non fa giocare è una squadra che tenta di distruggere non ti fa costruire però credo che per quasi tutta la gara abbiamo tenuto noi il pallino del gioco in mano e devo soltanto fare i complimenti alle mie ragazze che oggi hanno sofferto e hanno sofferto tanto hanno sofferto e l'abbiamo spuntata alla grande da grande squadra abbiamo avuto anche pazienza nei momenti difficili ma non mi posso rimproverare nulla forse l'unica cosa che abbiamo sbagliato è l'inizio della gara dove siamo partiti bassi poi siamo saliti subito in pressione lì è stata la chiave della partita ti chiedo se forse vista anche che ci sarà la sosta c'è da lavorare sul ritmo partita a volte troppo lente a volte troppo prevedibile nelle giocate beh ho detto siamo un po stanchi stiamo preparando anche un lavoro con il preparatore dove le ragazze stiamo facendo lavorare sul piano fisico per prepararci anche ai playoff quindi era normale me lo aspettavo che non avremmo avuto un ritmo elevato comunque va bene l'importante ho detto è vincere la gara perché secondo me oggi abbiamo sbagliato veramente tantissimi gol parli di playoff però il caravalle pareggia in casa e adesso siete almeno uno dalla vetta ascoltami se succede succede il caravalle deve comunque recuperare una gara noi dobbiamo riposare loro hanno già riposato quindi non guardo la classifica io adesso ho blindato il secondo posto quella è la cosa importante poi se succede ben venga presidente arriva una vittoria importante probabilmente come parlavamo con il mister i tre punti sono la cosa migliore oggi mancato il ritmo è mancata anche una certa attitudine al sacrificio forse la pazienza è stata la dote migliore è stata la pazienza e la capacità alla fine di riuscire a portare a casa il risultato perché è una partita più strana di queste io forse non l'ho mai vista è stata molto complicata non riuscivamo a svolgere la solita nostra manovra non siamo stati incisivi in porta abbiamo sbagliato tantissimo e ancora di più devo fare i complimenti al portiere della squadra ospite perché ha fatto delle parate veramente importanti è veramente brava forse oggi è uscita anche la maturità di questa squadra che anche quando non gira tutto benissimo porta a casa tre punti nella classifica cambia poco anche se il chiaravalle ha rischiato di perdere la gara contro la virtus ha guadagnato un punto siete almeno uno è vero che il chiaravalle deve ancora diciamo così giocare il suo turno invece voi avete un turno di riposo però diventa tutto più bello in questo finale di stagione regolare sì sì è tutto più bello tutto più avvincente ringraziamo il samichile per questo piccolo piacere peccato che alla fine il chiaravalle ha pareggiato vabbè è un solo punto sopra però questo ci deve motivare ancora di più e ci deve dare la consapevolezza che siamo una grandissima squadra visto che abbiamo vinto con san michele tutte e due le partite quindi un po di orgoglio ce lo dà anche c'è la sosta adesso probabilmente c'è anche da recuperare un po di fiato perché queste squadre in questo inizio di 2024 hanno davvero macinato tanto noi non recupereremo tanto fiato ci sono in programmazione due amichevoli col bitonto di serie a e quindi ringraziamo il presidente intini tutta la società al bitonto per darci questa possibilità di giocare due partite con loro proprio per per non perdere il ritmo e per stare sempre con l'agonismo giusto anche in queste due amichevoli